Promuovere reciprocamente i territori della provincia di Salerno sotto il profilo turistico, storico e culturale e l'impegno reciproco assunto ieri pomeriggio presso la sede dell'automobile Club Salerno da ACI Salerno e l'associazione Parvares, promotrice di Italia Emotional Way, un movimento culturale finalizzato alla ricerca, valorizzazione e diffusione dei valori della storia e tradizioni dei borghi italiani. A sottoscrivere il protocollo d'intesa al termine della conferenza stampa di presentazione della partnership sono stati il presidente ACI Salerno Vincenzo De Masi e Mafalda Inglese presidente di Parvares Italia Emotional Way. Una bellissima manifestazione che si è concluso con l'accordo con Parvares che consentirà non solo la valorizzazione dei borghi salernitani e della nostra provincia ma consentirà anche di valorizzare l'uso dell'automobile non più inteso esclusivamente come bene strumentale ma anche come elemento di penetrazione verso quelle bellezze, quella cultura e quelle tradizioni che hanno formato la ossatura della nostra civiltà. L'automobile è un modo per arrivare dovunque con i tempi che si preferiscono e con le famiglie sul nostro territorio per vedere le nostre bellezze. Ecco noi questo vogliamo fare principalmente vogliamo che il nostro territorio venga riscoperto, venga valorizzato e venga amato di più. Il turismo oggi non può essere solamente turismo di massa per tutta una serie di circostanze che legate alla pandemia hanno modificato il nostro modo di vivere. Però la cultura rimane sempre la stessa, la tradizione rimane sempre la stessa e vale la pena di scoprirla. L'automobile è il mezzo giusto per poterlo fare. In qualità di presidente dell'associazione culturale Parvares abbiamo inoltrato e indirizzato la richiesta di partnership all'Automobile Club al fine di ampliare il nostro ventaglio di partner con i quali poter migliorare e efficientare le nostre proposte di attività e progetti sui territori. Su quali territori? Sui territori dei piccoli borghi italiani. Ricordiamo che sono 5.500 i borghi italiani al di sotto dei 5.000 abitanti con i quali noi operiamo come associazione culturale facendo poi attività e progetti di vario genere sostanzialmente insieme ai comuni, quindi agli enti, alle istituzioni, ai vari partner e alle aziende e al territorio stesso proprio nelle persone che intendono esercitare il loro diritto di migliorare e sviluppare il proprio paese. Questa è la nostra associazione e il nostro movimento che attraverso diverse progettualità riesce a far sentire la voce anche dei piccoli borghi d'Italia. Penso che sia veramente stata una giornata importante con la sottoscrizione dell'accordo di partnership tra l'Atomobil Club Salerno e l'associazione Parvares in cui appunto è stato sottoscritto dal presidente De Masi e dalla presidente Mafalda Inglese. Veramente penso un momento importante, un'occasione per partire con un nuovo rilancio partendo dalle nostre radici storiche perché come ACI ci siamo sempre occupati di turismo e anche di valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale, artistico, enogastronomico, perché no ma cerchiamo di far conoscere il nostro territorio anche attraverso le tante attività che noi svolgiamo per esempio attraverso le attività dello sport automobilistico che richiamano veramente tante persone per un'occasione specifica e che poi magari ritornano con le proprie famiglie, con i propri amici a visitare e esplorare appunto il territorio. Altro settore di grande interesse è sicuramente quello delle manifestazioni che noi organizziamo attraverso le auto d'epoca, anche quelle grande elemento di richiamo cioè tutte occasioni peraltro sono nella mission dell'ACI che intende sempre valorizzare dal punto di vista del turismo il patrimonio e soprattutto ci occupiamo di mobilità e quale mezzo migliore che è la mobilità dell'automobile per esplorare anche borghi antichi, borghi da scoprire come nel caso specifico di quelli di cui parliamo oggi ma comunque le tante bellezze che veramente abbiamo, non soltanto le più conosciute ma veramente le tante bellezze da scoprire quindi penso a un accordo molto molto importante con la partecipazione anche dell'Università degli Studi con alcuni dei comuni con i quali già siamo partiti per questo avvio di attività ma un protocollo che non deve essere fine a se stesso ma deve essere il punto di partenza per avviare questa nuova attività e per ritrovarci veramente a riscoprire il nostro patrimonio e soprattutto a farci crescere tutti quanti da un punto di vista culturale Il partecipo come dicevo è molto interessante perché diciamo nonostante si sia parlato molto di turismo di prossimità in epoca pandemica anche per questioni proprio di sostenibilità e in realtà parte da pratiche buone concrete dal basso, da quelle di Barbaresse che noi conosciamo come osservatore sviluppo territoriale, Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione e il contributo dell'ACI secondo me può essere molto interessante proprio per progettare nuovi percorsi turistici che sfuggono alle logiche del turismo di massa e vanno in una direzione di innovazione e di sostenibilità